Ecco, vi volevo riannunciare a quello che aveva detto poco fa, non avrei parlato, qui in trasmissione in ultimi due anni, perché alla fine, a fine gennaio sono 24 mesi che siamo ufficialmente nel caos Covid, qui in trasmissione sono venute medici che hanno dimostrato qui in trasmissione di aver attuato, contrariamente a quello che era all'inizio il protocollo, di aver attuato da sempre con la propria esperienza medica in casi simili, abbiamo avuto collegamenti anche in altre province e di questi medici effettivamente non se ne sa nulla, cioè medici che hanno dimostrato qui in trasmissione di aver ottenuto degli ottimi risultati e di cui non se ne è parlato, addirittura il mainstream li ha completamente asfaltati, perché questa è una cosa che anche dal punto di vista legale, non si riesce a capire quale stato civile, ci sono dei medici che riescono a dire, noi abbiamo dimostrato, grazie a 30-40 anni di esperienza, abbiamo dei risultati oggettivi, morti zero, gente curata a casa e queste persone non vengono assolutamente prese in considerazione.